eccoci ciao a tutti nuova puntata di cento per cento partiglia e giorgia sem oggi purtroppo sono da sola ma gabriele c'è ed in collegamento salutiamolo ciao gabriele mi senti ciao ciao vi sento perfettamente domani parto vado lontanissimo vado all'estero e siccome c'era magari una possibilità dati gli ultimi ritardi tra eri treni e menate varie e qualora avessi perso l'aereo avrei perso un'occasione un viaggio importante di lavoro lontano e quindi sono in collegamento ma tornerò settimana prossima faccio un po e due di seguito eccetera eccetera dove vai gabrie non si dice scopriremo delle lavati questi giorni ma ti dico solamente una cosa vado nel posto tra l'altro sono in diretta su tik tok ci sono 3.800 cuori oltre 100 spassa 60 spettatori quindi c'è ci sono un po di persone collegate su tik tok sto dicendo vado nel luogo dove a breve ci saranno le lezioni più importanti hai detto tutto praticamente basta 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 non parliamo poco questo viaggio basta non posso dire niente senti abbiamo dei collegamenti regia mi confermi che abbiamo il primo collegamento della puntata perfetto allora colleghiamoci subito con francesca de martin ciao francesca ecco ciao francesca piacere allora ieri le iene attraverso gaston zama hanno raccontato il lato simpatico che poi di simpatico vuole capire cosa c'è del calippo tour attraverso due protagoniste dove lo hanno fatto vedere come un qualcosa dove due ragazze pienamente coscienti con l'ok delle loro famiglie fanno questo tour in giro per l'italia e appunto forma di adesso appagamento da una forma e dopo di che caricano i contropunti su allifanz dicendo che il guadagno derivi tutto da lì e che è un mondo quasi fantastico quasi fatato ma in realtà dietro si nasconde molto molto altro e noi abbiamo questa sera questo collegamento e ringrazio al nostro ospite perché dietro il calippo tour si nasconde un qualcosa di molto grave però io giorgia vorrei vedere il servizio perché se non andiamo col servizio io non vado avanti ok tra due minuti parte il servizio io nel frattempo volevo conoscere francesca perché io non non l'ho mai conosciuta io non sapevo chi fosse quindi ciao francesca io sono giorgia piacere mi puoi spiegare un po chi sei lavori sull'ifanz raccontami un po della tonità sì allora io lavoro sull'ifanz da ormai quasi un anno e ho 18 anni a breve 19 e appena iniziato a fare allifanz diciamo dopo qualche mese mi ha contattato appunto una creator molto forte e allifanz Italia ora vengono appunto dopo questa cosa mi ha scusami vai 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 scusami no continua continua e in pratica mi apriano quella stia quasi subito perché appunto una creator molto forte e tra l'altro anche molto curiosa dicendomi che aveva anche un'agenzia con il suo fidanzato io insomma all'inizio non ci ha dato molto peso perché comunque sapevo che le creator se non 99 per cento delle creator forti appunto ha un'agenzia dietro quindi comunque io ai miei inizi ero contenta che mi avessero contattato quindi entro subito in questa agenzia i primi mesi comunque inizio a fare dei dei guadagni quindi io ero relativamente contenta quanto guadagnavi quanto guadagnavi è all'inizio fatto con loro il primo mese sui 27 mila euro sì sì grazie nel vero senso della parola quindi quindi 27 mila euro e a te cioè tu guadagnavi 27 e all'agenzia quanto lasciavi il 50% quindi stiamo parlando di oltre di 60 mila euro di guadagno praticamente su per giù no 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 il 27 dico esclusivamente suoli fans il primo mese poi dopo i guadagni sono anche alzati appunto sono alzati per questo per questo tour perché in realtà ancora prima del calippo tour c'era un altro tour che si chiama mucchio selvaggio che appunto l'avevamo ce l'avevano creato per me è un'altra ragazza anche lei diciottenne e appunto in questo tour questo mucchio selvaggio tour era quasi la stessa cosa del calippo tour solo che la differenza era appunto che come il vero senso della parola mucchio selvaggio c'erano molti molti più uomini per appunto incentrare il guadagno in ogni tappa questa cosa poi e che partecipavano pagavano per partecipare sì sì tutti quindi anche quelli al calippo tour sì certo ieri alle iene noi questo passaggio non abbiamo visto nel servizio cioè ovviamente una cosa no perché ovviamente una cosa molto nascosta diciamo che è un po coperta dal fattore che comunque i clienti pagano su allifans e pagando su allifans tu paghi dei contenuti però in realtà ovviamente e chi paga di più e no ma lo fai attraverso un abbonamento eccetera io ti chiedo se io fossi un cliente e dovessi venire che sono una serata di mucchio selvaggio che la vedo dura però comunque se dovessi venire io li ti pago pago cash qualcosa oppure pago solamente con l'abbonamento su allifans ecco questa cosa io non non so se posso dirla perché effettivamente personalmente personalmente io non ho mai preso assolutamente cash so che alcune ragazze l'hanno fatto ok e qui prenderebbe proprio nella nella si configura il reato di il vero e proprio problema in realtà non è neanche questo perché appunto e le ragazze non stanno nemmeno con chi stanno per andare a partecipare nel senso che comunque è tutto il trepassato da un fattore cam che non so se lo sapete ma appunto su allifans ci sono queste videochiamate dove in teoria sarebbero delle cam appunto a pagamento e solo esclusivamente per parlare con la creator in queste cam appunto poi dato che comunque allifans non è cioè non è così semplice parlare comunque di incontri e di queste cose qui quindi cosa succede questa agenzia alla fine cercava di parlare degli incontri in queste videochiamate le cam erano finalizzate a creare poi l'incontro che fosse il mucchio selvaggio chi se ne frega però era creare l'incontro e l'atto fisico questo era diciamo il punto e tu quanti incontri hai fatto tu allora io sinceramente quando ho partecipato a questa cosa non me l'hanno assolutamente proposta in questo modo cioè all'inizio loro me l'hanno detto sì facciamo il tour fate i video con chi volete non in realtà è finto poi appunto la cosa si è trasformata una cosa vera quando è iniziato a mandare degli audio appunto questa agenzia questo manager mi ha iniziato a mandare questi audio in cui mi diceva appunto che il perché noi eravamo il kinotto tour eravamo io e una mia amica con questo che facevamo parte del kinotto tour che era la stessa cosa del calipo tour perché appunto fanno parte della stessa agenzia banalmente e quindi ci mettevano sempre in competizione appunto per cercare di guadagnare di più in pratica e allora dicevano la stessa cosa poi ho scoperto una domanda e quindi in pratica cercavano sempre di spingerci oltre i limiti ho capito però vai vai giorgio ok volevo sapere ma tutti questi tour seguono lo stesso iter come abbiamo visto ieri alle viene oppure si differenziano per qualcosa l'uno dall'altro no seguono lo stesso iter quindi sono tutti uguali sì ok senti ma tu adesso dove sei scusami non lo posso dire perché appunto quando sono uscita da questa agenzia ho ricevuto un sacco di ripercussioni e intimidazioni un sacco di ripercussioni sì tra l'altro io avevo appunto degli account sia su instagram che su tik tok e quando ho iniziato a parlare di cosa veramente accadeva in questi tour e di quanto io psicologicamente comunque non si è stata bene e loro mi hanno fatto bannare dagli hacker tutti gli account e appunto io ho anche chiesto a una persona che io sapevo che lavorava per loro che era appunto un hacker gli ho chiesto senti ma mi servirebbe far sbloccare il mio profilo e lui mi ha detto no guarda te l'ho bannato io per loro mi hanno pagato quindi è inutile che te lo sbanno se poi mi ripagano per bannartelo anche bello un bel mondo devo dire si nasconde dietro ma io so che tu domani è anche un'intervista con mediaset se non sbaglio no sì sì ho iniziato a parlarne appunto appena è uscito il mio video denuncia e sto a parlarne con varie diciamo produzioni tra l'altro anche le iene solo che non mi hanno tutelato appunto quanto io pensassi quindi poi ho rifiutato l'intervista e quindi domani è saltata l'intervista no 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 con mediaset io sono tutelata e sono tranquilla quindi domani sicuramente parlerò con carta bianca appunto su mediaset carta bianca ok bene bene però grazie per aver accettato il nostro invito comunque per me è un fatto di cronaca che secondo me si trasformerà in un'inchiesta molto più ampia rispetto a quella che si legge e racconta quindi grazie per aver accettato il nostro invito ma tu adesso per esempio non puoi dire dove sei perché ti stai proteggendo sì sì io mi sto proteggendo non appunto questa agenzia non sa dove sono non sa cosa sto facendo infatti i miei account sono praticamente bloccati hai pensato di denunciare scusa hai denunciato sì sì io molto probabilmente a breve denuncerò solo che ci sono molti fatti gravi nel senso che io non posso essere l'unica a denunciare questa cosa perché appunto e quando io ho pubblicato questo video denuncia davvero penso una centinaia di ragazze mi hanno contattato la responsabilità è soggettiva quindi se tu vuoi denunciare puoi denunciare non è che devi aspettare no però diciamo che comunque e so che se lo facessi io mi si avvicinerebbero un sacco di ragazzi a farlo quindi preferisco fare una cosa tutte insieme perché so che comunque loro sono molto impauriti a denunciare cioè sono sono fatti comunque di anche anni fa a addirittura quindi prima che partì alipotur prima che perché partisse tutta questa ma infatti io e qualche sera fa ero appunto parlare a carta bianca di questa cosa che mi hanno scritto delle ragazze minorenni e per ragazze non intendo infatti solo una e mi hanno scritto che questo fidanzato di questa ragazza le ha contattate appunto per la sua fama insomma così ha cercato comunque di approcciarci ha chiesto foto esplicite video espliciti e dopo di che queste ragazze quando le avevano mandate appunto lui le ha bloccate e si è tenuto questi video ma non hai paura io ho la certezza che questi video stiano girando al momento ma non hai paura di adesso non hai paura a metterci la foto adesso la situazione è questa sì assolutamente però qualcuno doveva farlo Giorgia vuoi dire qualcosa? no io sono un po' sconvolta quindi l'unica cosa che dico è Francesca per favore denuncia questa situazione perché altrimenti magari dopo di te seguiranno tante altre ragazze quindi potremo sbloccare no no ma io non ho la certezza di questa cosa esatto quindi va bene Francesca grazie per la tua testimonianza so che potremo andare avanti per ore però so che sicuramente se ne parlerà ancora e magari ci torniamo torniamo anche noi grazie per aver accettato l'invito io sono abbastanza sconvolto nonostante io non mi sconvolga da tempo nel rassentire storie mi sembra di essere tornato ai tempi di quando di Alberto Genovese di Terrazza Sentimento con ti faccio un termine all'uomo denuncia soprattutto denuncia no no beh l'ultima domanda se tornassi indietro lo rifaresti? no non lo rifarei però in quel momento con la testa di quel momento perché comunque io ripeto andavo a scuola facevo 18 anni andavo a scuola e loro mi hanno semplicemente non mi hanno mai parlato di questo tour non mi hanno mai detto nulla non mi hanno mai persino quando mi hanno proposto il tour non mi hanno detto che sarebbe stato così quindi se avessi saputo ovviamente tutto quello che sarebbe successo ovviamente no con le pretese di prima forse sì non lo so va bene ci sarebbe tanto da dire e tanto da chiedere in bocca al lupo grazie denuncia e proteggiti in questo caso grazie mille per la possibilità di appunto raccontare la mia storia ciao Francesca ciao mamma mia io sono sconvolta pure io sì però sai cosa se tu ieri guardi veramente tutto il servizio delle Iene Giorgio Gastonzama che è un mio amico e che è veramente una persona che stimo tra i più bravi io credo che lui abbia raccontato questa prima parte e poi ha chiuso il servizio dicendo ma sarà veramente così in mondo dorato come lo hanno raccontato e c'era la porta che si vedeva proprio che si socchiudeva nel senso che che secondo me andrà avanti e secondo me è quello che abbiamo fatto tra l'altro tanti stanno scrivendo assurdo ci sta seguendo live almeno sulla mia pagina ttok il problema sì sono i soldi facili è il modo non corretto di guadagnarli così questo io quando ho visto il servizio ieri tutto mi è parso tranne che un mondo dorato anzi ero senza parole di come due ragazzine potessero vivere in questo modo però ovviamente sono miei pareri personali e quindi sono no 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 ma hai ragione hai ragione pienamente senti dai ci sentiamo una canzone non so quando vedremo il lato invece oscuro di questa situazione come reagirà il lato ma già domani sarà se a carta bianca è ospite vedremo cosa succederà e comunque ora non è che vorrei dire studio 100 anticipato Mediaset sulla notizia scusatemi dentro ciò andiamo avanti dai scontriamoci sentiamoci petit vai assolutamente sentiamoci petit e ci salutiamo e ci vediamo tra pochi a tra poco con tutta la vicenda Totti ed abbiamo sentito Gali con niente panico siamo tornati 100% Partiglia e Giorgia Sem abbiamo Gabriele Partiglia in collegamento va bene andiamo sull'argomento andiamo sull'attualità praticamente è stato appena consegnato un tapiro a Francesco Totti che in realtà è un tapiro che risale a poco prima che partisse per Miami con Noemi Bocchi quindi esattamente a poco dopo l'uscita delle fotografie da parte del settimanale gente intanto dovrò ringraziare tutti quelli che ci stanno seguendo sull'altro social perché sono veramente tanti e stanno commentando tutti amici TikTok grazie per esserci grazie per esserci grazie per esserci ma veramente un tempo di tendenza figo grazie il tapiro è stato consegnato poco prima che partissero per Miami quindi vi racconto una storia allora Totti e Maria Luisa Jacobelli si sentivano da oltre 5 mesi ok sì assolutamente sì lui ha promesso a lei Maria Monti che avrebbe lasciato Noemi quindi siccome so quel che dico e so che non posso essere smentito salvo poi uscire appunto le foto di gente con lo scoop dove lei dichiara nelle foto di due che escono all'hotel dove si sono visti due più due fa quattro Totti in queste ore quindi da quando è uscito il settimanale quindi stiamo parlando da mercoledì giovedì fino a domenica ha cercato Maria Luisa Jacobelli per tentare di fare un comunicato congiunto per smentire tutto quanto chiaramente la ragazza ha detto io non smentisco il fatto che fossi lì in hotel perché poi c'è tra l'altro dire ti conosco perché tuo padre è un direttore di un giornale un giornalista dire eravamo lì per un'intervista è anche un po' imbarazzante per la ragazza stessa oggettivamente e quindi ha rifiutato di fare qualsiasi comunicato ma ha rifiutato anche di fare qualsiasi intervista nonostante credo ne abbia ricevuto ricevute 40 eccetera eccetera Totti invece è partito appunto per Miami per trascorrere l'Halloween la settimana di Halloween insieme con noi in bocchi e stasera c'è il tapiro consegnato da Staffelli dove lui dice non accetto più tapiri non voglio più tapiri detto ciò il comunicato non verrà fatto quindi questa è la notizia se volete metterci anteprima o quello che volete esclusivo 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 metteteci anteprima esclusivo Maria Luisa non vuole smentire assolutamente ma il punto è molto semplice lei vuole far calare il silenzio anche perché ti ripeto c'è stato un momento in cui le è stato promesso veramente una storia una storia d'amore una storia d'amore che poi non è stata fatta non si è concretizzata perché Totti è tornato con Noemi Noemi tra l'altro ha cancellato tutte le foto da Instagram tranne una con Totti e in questo momento chiaramente ognuno reagisce al suo modo però la situazione è questa infatti se uno se tu uno deve chiedersi quando esce una cosa del genere e tu non rispondi qualcosa qualcosa è andato è andato storto è andato storto è un peccato perché stiamo parlando comunque di una storia dove esattamente tre settimane fa se non sbaglio un mese fa non mi ricordo l'avevamo commentato anche noi in studio di Studio 100 Francesco aveva fatto il compleanno e c'era Noemi che aveva organizzato lui una festa sorpresa con la lettera della figlia con una caccia al tesoro per il regalo quindi era anche una bella scena da vedere è un peccato perché Totti deve comunque affrontare ancora un procedimento di divorzio una causa legale appunto con la sua ex Larry Blasi e questo non gioca sicuramente a suo favore è un peccato perché comunque stiamo parlando di uno veramente di una leggenda del calcio che ahimè oggi secondo me io sono convinto che se non fosse per il gossip che ha comunque accompagnato sempre la vita di Totti la vita di Totti oggi Totti sarebbe veramente nella Roma con un ruolo sarebbe nel calcio sarebbe io credo che questo lo abbia penalizzato tantissimo Hillary come ha reagito ci chiedono in tanti come ha reagito Hillary ha postato una cosa e ha postato una storia di un comico di Camilli se non sono tantissimi ciao ragazzi grazie a tutti quanti ci seguono? guarda ci sono 8400 cuori ti dico e volevo e quindi ha postato quello dicendo una storia dove diceva noi non vediamo cose vediamo gente citando il settimanale di Brindani che in questo caso ha fatto lo scoop e quindi l'ha buttata sul ridere alla Hillary non so che cosa sta succedendo e siamo in classifica giornaliera e quindi questa è la storia non una bella storia non so sicuramente finirà con Noemi che perdonerà Francesco Totti però sembra diciamo un po' un libro già scritto ecco su questo non ci piove non ci piove giusto? sì però è pieno il mondo di ex calciatori che hanno diverse relazioni e quindi finiscono tutte state giornate ho capito ma la vita non è questo l'amore è la vita però non credo che questo lo abbia penalizzato nel nel secondo me sì secondo me lo ha penalizzato molto perché ci vuole anche guarda De Rossi De Rossi è una persona che lui ha avuto i suoi casini privati ma le ha sempre contenuti si è costruito una famiglia è ripartito oggi Roma lo invoca di nuovo sulla panchina come allenatore dove è stato cacciato ingiustamente dove la Roma faticà a via però De Rossi ha mantenuto sempre una linea retta nonostante anche lui abbia avuto diciamo situazioni non facili e Totti invece ragazzi non ci ricordiamo non ci dimentichiamo una cosa i Rolex lei che ruba i Rolex a lui lui che nasconde la borsa a lei tra l'altro ci sono altre due notizie altre due notizie la prima che Totti uscirà a dicembre con un libro dove risponderà a Unica di Ilari ora però a questo libro manca questo ultimo capitolo con la Diego Belli quindi diciamo non è che è proprio credibile credibile perché ma proprio ha rovinato del lancio del libro e poi c'è anche Ilari che tornerà su Netflix con una nuova serie con la seconda parte di Unica che però anche si chiamerà Unica anche se si potrebbe chiamare Unica in questo caso data dalla situazione imbarazzante ma non volevo e quindi però nella serie non parlerà più di Totti quindi questo è quello che noi sappiamo una serie costata tra l'altro 2 milioni e 800 mila euro questo vi volevo dire e chissà che sarà vista tanto quanto Unica quindi se non parlerà più di Totti ma sai se non ci metti il gossip però ci sarà il fidanzato Bastian per la prima volta ci sarà il fidanzato Bastian che lei ha conosciuto anche qua mettiamoci un esclusivo anche qua dai ragazzi ve lo racconto anche a voi amici che ci stanno seguendo in diretta su TikTok l'ha conosciuto è una storia strana guarda questo è veramente questo è veramente un scoop lo ha conosciuto così perché poco prima di andare a fare un viaggio a New York è andata a farsi le carte da una cartomante insieme con una sua amica lo sto raccontando qui per la prima volta capito questa cartomante prima che Hillary partisse per New York le disse guarda che tu adesso incontrerai l'uomo e la tua vita credetemi che sembra strano ma anche io frequento molto le cartomanti bene siete un giro siete un giro ci credo ci credo non pensavo ci fosse un giro io no e la cartomante disse incontrerai questa persona va beh Hillary è andata per tutto il viaggio e non incontra nessuno salvo poi nella business a rientro vede scendere praticamente dalle scale quest'uomo bellissimo i due si incrociano e non si dicono niente e poi lei lo dice alle sue amiche dice vada allora presentati e si presenta prima lui da lì si scambiano il contatto Instagram dopo di che si iscrivono per un po' su Instagram e poi è lei a fare il grande passo ed è andare da lui lui vive in Germania se non sbaglio a Francoforte vive Bastian detto Bas vive lì dove gestisce l'impresa di famiglia lei ha già conosciuto la sua famiglia e la storia è nata così è nata per un gioco di carte che però se voi ricordate anche nella prima parte di Unica e lei raccontava che si l'ha anticipato andava da una maga che gli diceva che c'era qualcosa che non andava proprio con Francesco Dotti e poi era era successo ma lui parla in italiano? lei parla lei ha imparato il tedesco lui parla nella serie per la prima volta parlerà un pochettino in italiano sì ci sarà il viaggio che loro hanno fatto in Giappone mi hanno anticipato quindi anche questo spoiler e quindi e quindi ci sarà diciamo ecco la presenza non ci saranno i figli perché proprio Totti non ha dato il consenso affinché partecipano i figli però poi lo stesso Totti lo riprende magari la piccola Isobella se non sbaglio mentre legge una lettera e la posta sui social ecco secondo me non è il massimo della carineria se tu dici no a destra devi essere coerente a sinistra no? un po' come hanno fatto i Ferragni stile stile Chiara e Fredez appunto a proposito i Ferragni ne parliamo tra pochissimo perché è un casino cioè è un casino non se ne è nel mentre che facciamo chi c'è? Shakira state lì che tra poco parliamo ai Ferragni e ci ascoltiamo Shakira Shakira con Soltera Soltera eccoci siamo tornati siamo in diretta con 100% partiglia aspetta 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 eccomi qua siamo tornati scusami ma stavo parlando con la live questa roba di scambio e siccome siamo a 15.000 cuori mi piace funziona ti ricordi che l'altra volta quando l'abbiamo fatta in onda ce l'hanno bloccata tipo 3-4 volte? ce l'hanno segnalata strano strano invece questa volta che abbiamo parlato di Calippo Tour mucchio selvaggio non è successo niente vabbè meno male allora facciamo vedere due foto e facciamo una roba di giornalismo arriviamo a 20.000 brava chi l'ha scritto arriviamo a 20.000 allora facciamo una roba di giornalismo ci dovrebbero essere due foto no questa è una cosa che veramente guarda mi scaldo su questa roba mi scaldo possiamo mettere due foto di vive donne di Chiara Ferragni che ci dovrebbero essere in regia quelle della grazie insomma impressione no questa grazie ok ferma questa è una se si può avere anche l'altra vabbè dai partiamo ok perfetto non si possono avere tutte e due splittate per regia per caso se no lasciamo la prima partiamo dalla prima partiamo dalla prima ok prima foto prima foto cara chat parlo anche con voi noi non la vediamo come fare dovreste collegarvi a un studio 100 comunque una foto dove c'è scritto la lascia lascia un secondo lascia un secondo per favore c'è scritto spunta un pancino Chiara Ferragni in dolce attesa allora ora io voglio dire una cosa innanzitutto bisogna bisogna finirla col fatto che se tu fai una foto a una donna è già successo in passato tantissime tantissime volte con mi ricordo la Puccini mi ricordo con Laura Chiatti che si è dovuto che aveva avuto dei problemi la dobbiamo finire che se una donna viene fotografata oppure perché può anche succedere che magari la foto ti viene in quel modo e ti allargano dalla prospettiva dipende dalla prospettiva di come io ti fotografo tu puoi venire che so con la giacca un po' più larga come in questo caso no spunta un pancino in dolce attesa ma poi dov'è il pancino mi chiedo ma poi non c'è nel pancino nella pancia c'è solamente c'è solamente una giacca larga di quelle ex large che si per size bravissima che si usano adesso e e di vedo andare a scrivere spunta un pancino in dolce attesa ma in dolce attesa di silvio campana c'è il seo di terzo figlio in arrivo di golden goose col quale non sta più insieme ormai da tempo quindi io dico come cazzo fai a fare questo lavoro cioè come fai a fare questo lavoro cioè nel senso tu compri delle fotografie pubblico una notizia il lettore spende dei soldi per comprare il giornale non ti cioè non ti informi neanche se se i due stanno insieme e non solo dici che i due stanno insieme ma che è pure incinta cioè è una cosa proprio che significa proprio non voler non voler saper fare i giornalisti non voler saperlo fare perché credimi credimi Giorgia ti giuro non è questione di chi è più bravo di chi è meno bravo è questione veramente che tu se fai questo lavoro alzi il telefono fai una telefonata e chiedi una conferma capito cioè non puoi scrivere che una donna non lo puoi fare ma soprattutto nella notizia c'è una doppia fake news che non sta con il sito Campara andiamo all'altro giornale il settimanale dove io ho lavorato per 22 anni e dove ricordo che mi sono dimesso lo scorso 9 agosto con molto piacere Silvio Campara di nuovo in famiglia no levate questa levate questa che viene dopo Silvio Campara di nuovo in famiglia ora io capisco che in Italia non c'è il concetto di due persone si lasciano comunque continuano ad avere un bel rapporto e possono avere un rapporto visto che hanno due figli ok quindi non è di nuovo in famiglia è è normalmente in famiglia ma è tornato con la sua ex quindi tu non mi puoi far passare il messaggio che è di nuovo in famiglia come se fosse tornato con la sua ex quando in realtà è con i figli perché è in realtà un'altra notizia che non è voluto verificare molto semplicemente e questo dispiace tantissimo perché non c'è non c'è non c'è voglia di fare questo lavoro ma soprattutto la gente ragazzi spende i soldi poi vedi che c'è c'è la crisi c'è la crisi dell'editoria è certo che c'è la crisi dell'editoria se tu proponi questo i giornali poi non te li comprano è molto semplice veramente voglio ringraziare la like stiamo arrivando quasi a 20.000 quindi Gabri smentiamo il fatto che Silvio Campara sia tornato con la sua ex giusto? smentiamo che Silvio Campara sia tornato con la sua ex smentiamo che Chiara Ferragni sia incinta e che stia con Silvio Campara ma andiamo con la foto terza foto scoop di Tagospia Chiara Ferragni vicina a Giovanni Tronchetti Provera adesso spieghiamola bene ok Chiara Ferragni si avvicina a Silvio Campara si avvicina a Silvio Campara ma Silvio Campara ha mille dubbi tra i due non esce mai una foto tra i due l'incontro non diventa mai un incontro pieno d'amore mettiamolo così perché appunto lui c'è una separazione perché non è neanche sua moglie tra l'altro tutti hanno scritto che era la sua ex moglie ma non è la sua ex moglie è la sua compagna quindi si prende un periodo per capire cosa deve fare in questo periodo ed è il periodo in cui salta il famoso viaggio in Perù che dovevano fare Silvio Campara e Chiara Ferragni lei sceglie di andare prima in Corsica poi in Sardegna dove incontra Giovanni Tronchetti e Provera lo incontra lo incontra per caso sì 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 lo incontra per caso però i due già si conoscevano perché i loro figli lui ne ha tre lei ne ha due vanno a scuola nella stessa scuola vanno a scuola nella stessa scuola quindi già si conoscevano anche lui è in crisi con non so se l'ex o la moglie non saprei questo comunque la notizia di Dago Spia quindi lui inizia a parlare con lei come diciamo consigliere in quanto imprenditore d'azienda eccetera eccetera per poterle dare dei consigli perché comunque lei ha una richiesta di rinvio a giudizio che potrebbe colpire tantissimo in caso di condanna non è un è truffa aggravata il patrimonio potrebbe risentirne parecchio è una condanna che comunque fa male ok ci sono intanto un sacco di problemi societari ma quello sono discorsi noiosi soprattutto anche per voi e qui o comunque non mollano sono tutti fedeli qua e quindi stavo dicendo non incontra Giovanni Torchetti Provera nel mentre Campara si allontana ok da Gospia lancia la notizia e allora quando esce la notizia tu ti aspetti un po' di agitazione come è successo con Totti perché Totti a tutti i posti voleva fare il comunicato per dire è finita non è finita la storia non sto con Jacobelli eccetera eccetera in realtà in realtà qui è calato il silenzio qui è calato il silenzio ma è calato proprio il silenzio nel senso che dalla Milano Bene hanno smentito che un po' quando Ileri dice nella serie unica Roma mi ha parlato no? quando Ileri dice Roma mi ha parlato e qua invece è la Milano Bene che parla e la Milano Bene conferma conferma pienamente questa notizia addirittura si parla di una foto che lei avrebbe postato con un giubbotto regalato da lui che poi hanno collegato eccetera 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 e questo fa strano sai questo silenzio fa strano perché ti confermo che la notizia è vera ti confermo live che la notizia è vera confermo ecco perché non hanno non hanno smettito ecco perché ti confermo a me sì perché stavo stavo lavorando ti confermo che la notizia è vera quindi ufficiale eh sì la storia è vera la storia è vera quindi Giovanni Tronchetti Provera è la persona in questo momento vicina a Chiaraferra ora tu dirai come fa chiaramente non posso rivelare la mia foto stavo lavorando niente quindi pare quindi presente nel momento in cui Campara si è allontanato lei si è avvicinata a a Giovanni no sono rimasto un po' così perché quando ti arriva così live resti un po' basito avete capito ragazzi quindi e quindi questa è la situazione capito capito quante notizie quante notizie ma a breve penso che ci sia Dejanira quindi andiamo avanti la prossima canzone andiamo a ascoltare un giovane alfa assolutamente il filo rosso il filo rosso a fra pochissimo eccoci siamo tornati cento per cento per piglia e Giorgia Sam in collegamento oggi abbiamo Gabriele Parpiglia tanti Gabri spero ci siano seguenti in tanti mi senti? sì sì ora sì perché ho il telefono in fiamme quindi va bene così bene così senti chiamiamo una nostra amica che parliamo di quello che succede che dovrebbe succedere stasera in collegamento ci sente Deja ci sei? ciao Deja ciao come va? ciao a tutti tutto bene grazie sempre carina contattarmi sempre un piacere ma un piacere è tutto migliore in realtà no dai veramente grazie sono contenta e Gabriele senti Deja ci fai mi senti Deja? ma voi mi sentite? sì sì io ti sento tu non senti Gabriele? no sento solo te allora chiedi di farci un riassunto probabilmente perché siamo collegamento su collegamento di farci un riassunto su quello che succederà questa sera al Grande Fraterno ok allora Deja scusami sicuramente non ci senti perché siamo in collegamento sia tu che Gabriele però volevo chiederti se potessi farci un riassunto di quello che succederà questa sera al GF allora questa sera al GF al 99,9% dovrebbe barcare la la Porta Rossa Federica che è la insomma una ex fidanzata tra le coppie di Sensation Island lei come sappiamo è uscita praticamente da single lei ha attualmente una storia con Stefano uno dei tentatori quanto durerà? sicuramente c'è stato quanto durerà secondo te questa nuova storia? ma non lo so perché secondo me durerà molto poco anche perché nel frattempo comunque lei si frequentava con il cugino di Titti esatto te l'ho chiesto per quello quindi abbiamo visto anche una foto di lui che la prendeva in braccio infatti ho saputo che Stefano insomma inizialmente l'ha giustificata però poi dopo insomma è rimasto un po' così perché dice ma cioè tu in realtà hai dato un po' di confidenza a questa questa persona ecco non era solamente un semplice amico certo perché se questo ti prende in braccio diciamo che lei si è data un po' la Federica si è data un po' la pazza gioia Federica si è data la pazza gioia ma ha fatto bene ha fatto bene ha fatto bene giustamente è stato tanti anni certo come dice lei giusta in gabbia quindi si vuole divertire ma addirittura dicono cioè chi dice ma vuol dire che poi si innamorerà di Javier ma vuol dire che si innamorerà insomma dell'altro monomiglio nel nome quello che Lorenzo diciamo Lorenzo che ha questa storia con Sala e quindi si sa ma secondo me ma si sta iniziando ad animare un po' questo di essere esatto esatto infatti adesso penso che inizierò a vederlo anch'io ma secondo te potrà entrare c'è possibilità che entri anche Alfonso il suo ex fidanzato anche lui che ha partecipato al Tentation Island non lo so però io me lo contatto in questi giorni così ve lo faccio sapere brava anche perché ti seguo H24 quindi guardo tutte le tue storie vedo grazie anche io ti seguo sì sì lo so lo vedo lo vedo e ti ringrazio molto Gabriele ma ci sei? chiedi come reagirà Elena quando vedrà Shaila come reagirà Elena quando vedrà Shaila ok ok mi chiede Gabriele di chiederti come reagirà secondo te Elena quando guarderà i video di Lorenzo e Shaila ma Elena ti metterà a piangere visto che piange continuamente però posso dirti si è comportato malissimo nei suoi confronti Lorenzo vabbè però non è che ogni volta che un uomo restringe a una donna che diamo per forza no no questo è vero questo è vero sono d'accordo una donna non può neanche perseguitare a un uomo che si capisce che comunque non è tanto interessato perché lui l'ha visto tante volte che non era interessata e che poi lei fa questa parte che piange sempre dice piangente questo è vero questo è vero e Avier come reagirà cosa Avier come reagirà e infatti adesso credo che attueranno questa nuova strategia quindi Avier inizierà ad interessarsi ad Elena sì assolutamente sì e invece secondo te Avier come reagirà ma Avier a me Avier non mi convince questo fatto che sembra sempre l'uomo che è stato tradito che è stato preso in giro io mi sono scocciata diciamo che sta cavalcando un po' l'onda di quelli che sono stati presi in giro sì perché ora c'è tutta una carrellata di queste fan che lo adorano perché lui è il povero uomo che è stato seduto e abbandonato certo ma tu sei un mosso non sai ballare quella voleva fare un balletto sensuale stava fermo là come un palo è ovvio che poi quella che sta lì è scappata da Lorenzo no ma Lorenzo a me piace più Lorenzo pure se Lorenzo è burbero e dice un sacco di cose anche che non sono condividibili condividibili però è più sanguigno e ha Lorenzo sì vero però ha un carattere un po' particolare che a me non piace tanto quindi non riesco a fare il tipo per lui diciamo così no neanche io però guarda che Shaila è una frase fatta è una bella cassa da pelare non la facciamo tanto vero secondo me vanno bene tutte e due insieme perché si terranno testa lei non fa tutta la cassa morta così che la ragazzina seduta pure diciamo nello zucchero però non è scema neanche un po' è lei no 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 ma infatti assolutamente no non credo che sia scema per niente si terrà gli artigli se poi Lorenzo fugge assolutamente sì hai altri gossip per noi questa sera il gossip è proprio del momento che sono scomparse le foto quelle poche foto che aveva Sonia Bruganelli con il suo fidanzato ah Gabriele stai sentendo questa notizia questo scoop sono scomparse ma sì ma già le dichiarazioni le dichiarazioni a domenica tu lo senti o gli avete elevato la voce io non lo sento io lo sento però penso che siccome facciamo questo collegamento a tre visto che lui oggi non è con me in studio probabilmente è per questo ma non è che Sonia Bruganelli da quando si è saputo che si era operata per questa casa al fidanzato per farlo vivere a Roma eccetera poi dopo hanno litigato e quindi ha levato le foto chi sa è stato il fatto della casa sì quindi ha cancellato Sonia Bruganelli allora gli uomini le donne io sono vecchio stampo non devono fare regali agli uomini sono contrarie a questa cosa qua ma per una questione di stile è brutto che la donna sa fare regali all'uomo no? vero a me non piace per una questione di stile vero vabbè ogni tanto giusto per realmente forse è vero che lei si adoperà perché lui si deve prodigare da solo a cercare una casa a fare dire beh certo si vede anche l'insegno che ha un uomo a voler stare con sé no? assolutamente assolutamente sì vabbè poi questo discord che le abbia regalato una casa ha visto la mancanza la mancanza di impegno forse le ha visto la mancanza di impegno dice tanto due tre balletti e ora vai sì diciamo che regalargli una casa è stato un po' eccessivo mettiamola così vabbè no io penso il fitto no? beh non lo so questo non ne ho proprio la più forse l'ha prestata e l'ha prestata è prestata pure un bel regalo esatto e non lo so non lo so questo non lo so Gabri dice non lo so ma quindi ma lui ritorna a me dove stava prima se non stava più a Roma boh vedremo e boh vediamo 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 lo so lo so vediamo tu ovviamente aggiornaci Deia certo certo io li aggiorno sempre Gabri va bene grazie Deia mi saluti Gabriele assolutamente te lo saluto no e poi c'è pure quella cosa di Paola Caruso che si deve sposare è uscita la compagna del futuro aspetta ne parliamo alla prossima ne parliamo alla prossima ha detto Gabriele di bloccarti perché ne parliamo nella prossima puntata ah ok ok va bene ok perfetto grazie Deia grazie ciao ti mando un grande bacio alla prossima grazie per essere stata qui con noi grazie ciao a voi grazie a voi ciao Deia brava Giorgia è stata molto brava lo sai hai visto è perché quando non ci sei tu a fianco a me non sento molto la pressione e allora se vuoi facciamo sempre così non vengo più facciamo sempre in collegamento mi sento molto libera per me va bene no che non rende bene dai andiamo avanti con un'altra canzone va chi c'è allora adesso abbiamo Sabrina Carpenter Taste a fra pochissimo abbiamo lo scoop video eccoci ritrovati con 100% Farpiglia e Giorgia Sam Gabriele ci sei? ci sono ci sono devo dire l'idea di fare la diretta ha scatenato un po' di messaggi mi stanno arrivando cosa ci stanno scrivendo? no mi stanno scrivendo proprio privatamente vari colleghi che hanno seguito un po' senti innalziamoci dopo aver parlato di Grande Fratello di Calipo Tur che comunque attualità lo fa Bianca Berlinguer non vedo perché non dovremmo farlo noi scusa cioè ci ricrebbe innalziamoci un secondo c'è uno scoop ci dovrebbero essere delle immagini fatte a Roma che seppur da lontano inquadrano Monica Bellucci insieme a Tim Burton si quei due sono proprio Monica Bellucci e Tim Burton che attenzione stanno cercando casa a Roma quindi i due sono stati protagonisti della pellicola del sequel di Beetlejuice che vi consiglio di andare a vedere perché è bellissimo fatto appunto da Tim Burton e stanno cercando a Roma è stata un'immagine volante che un nostro ascoltatore ascoltatrice ci ha mandato e quindi questa è la notizia Monica Bellucci e Tim Burton stanno cercando casa a Roma ma sai se hanno già visto alcune case perché dal video ovviamente si vede non sono il loro agente immobiliare quindi non lo so allora parleremo inviteremo la prossima volta il loro agente immobiliare magari così ci dirà di più bravissima che è quelli che vende le case su real time come si chiama Gianluca non mi ricordo come si chiama non lo so non vedo non guardo non guardo cosa guardi cosa guardi principalmente Tentation Island poi per di più lavoro la sera ultimamente purtroppo quindi no per fortuna ringrazio per il lavoro no come purtroppo ringrazio perché è sempre bello distrarsi e guardare un po' di sano trash senti diamo un'altra notizia mi risulta mi risulta che potrebbe andare a Sanremo Ligabue come ospite speciale ma non partecipa? no no che partecipa Dandi Giorgia e dai e vabbè magari si vuole tornare a Sanremo magari no magari no e Ligabue quindi come ospite speciale potrebbe esserci Ligabue questa è un'altra notizia che diamo e invece ti avevo chiesto se per caso avevi sotto mano il cast di Pechino Express sì allora diciamo che è quasi tutto pronto per l'edizione del 2025 da come possiamo vedere dall'immagine questo è il nuovissimo cast e ovviamente il programma andrà in onda su Sky e nulla quindi inizieranno a breve a fare le riprese e andranno in onda no sono già partito questa notizia sono già partiti sono già partiti quindi hanno raggiunto in questo momento la prima tappa che non mi ricordo se la prima tappa è Filippine comunque sono Filippine Thailandia Nepal quindi la Thailandia mi ricordo Filippine appunto sì è la prima tappa si parte dalle Filippine per poi attraversare il nord della Thailandia e terminare l'avventura in Nepal yes quindi sono già lì ancora non sono iniziate le riprese e e quindi dai facciamo i nomi delle coppie va? partiamo da quella che conosciamo anzi che conosci meglio di tutti quindi Gelillo e suo fratello Checco sì guarda è un lavoro che è iniziato che è iniziato tre anni fa e questo significa credi proprio nel talento Gelillo è un talento abbiamo con Fabrizio Schip abbiamo veramente fatto un lavoro con calma non come tutti quelli che dicono il mio talent perché sai qui soprattutto qui a Milano tra Milano e Roma sono tutti agenti manager ma in realtà sono molto vicini ai Fuffa Guru quando tu credi nel talento di una persona devi veramente parlare di progettualità Jay è un talento Jay è la magia pop in Italia una cosa che non c'è abbiamo provato veramente di tutto e in questo io ringrazio Paolo Bonolis che l'ha voluta davanti un altro e a Ciao Darwin Caterina Balivo che l'ha voluto più volte ospite Gigi Arezzio che l'ha voluto a Piazza Pellebiscito davanti a 10.000 persone per fare appunto un gioco ringrazio veramente chiunque ci abbia dato Maria De Filippi che l'ha voluto a Tosic e Vales dove è passato con 4 sì e il 90% dei voti arrivando credo in semifinale quindi ringrazio tutti quelli che ci hanno creduto però chiaramente il progetto è ancora in corso cioè non è che tu fai Pichino Express e ti cambia la vita perché è finita una edizione poi c'è un'altra però questo diciamo che è un buon un buon incipit per poi andare più in alto verso cose più importanti e quindi io tifo per loro e tra l'altro attenzione anche a Checco che io ho voluto come autore seppur non avesse mai fatto l'autore a Radio Marte per tre mesi ha dimostrato di essere un ragazzo sveglio molto più sveglio di gente che fa questo lavoro da tanti anni e secondo me tra i due quello che le regalerà magie sarà Jay quello che regalerà sorprese sarà Checco ma tu faresti mai Pechino Express guarda adesso che c'è che c'è Jay ti dico che a me hanno proposto devi sapere una cosa che a me hanno proposto tutti i reality possibili immaginabili tutti cioè non ce n'è uno che nel corso degli anni proposto però chiaramente cioè se io dovessi dire di sì dovrei cioè poi dovrei rinunciare a perdere qualcosa quindi diciamo che ho detto di no però col fatto che Jay e Francesco quest'anno sono partiti ti dico boh vediamo 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 quello che succede eh ni ti dico ni non lo so sicuramente sarebbe stupendo per tutti noi telespettatori guardarti nei messi di un avventuriero voglio dire sono molto simpatico quindi vorrei dire che sarebbe esatto esatto non farei annoiare di certo no esattamente zero zero e altre coppie sono per esempio Virna Toppi e Nicola Del Freo che sono due ballerini del teatro alla scala lei e lui anche è una coppia molto celebre sui social altre coppie Gianluca Fubelli e Federica Camba in arte lui è Scintilla che è un comico un famosissimo comico altre coppie che parteciperanno al cast del 2025 di Pechino Express Yuri Chechi e Antonio Rossi e dopo di che ci saranno come abbiamo dato noi in esclusiva la notizia Ivana e Jaire De Dona Ivana Marazzova e Jaire De Dona e parteciperanno ovviamente anche loro a Pechino Express quindi ne vedremo nelle belle poi ci saranno Natali Guetta Giulio Bucci tra l'altro lei è la sorella di David Guetta del famosissimo DJ quindi insomma ne vedremo veramente delle belle poi ci sarà Dolce Nera e Gigi Campanile lei famosissima cantante ovviamente e Samantha e Deborah Togni quindi diciamo è un cast super vario e non non perderò sicuramente occasione di guardarlo e vederlo perché sarà molto 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 bello tu lo vedrai Gabri? ho sue figure di assolutamente sì non mi perderò neanche neanche una puntata anch'io anche perché Gelillo mi piace tantissimo come ragazzo un bravissimo ragazzo ma poi è bravissimo a fare il mago io difficilmente resto positivamente scioccata da magie varie e lui invece è stato bravissimo non so se ti ricordi quando siete venuti a Taranto è venuto anche Gelillo e ci ha fatto delle magie incredibili incredibili sì sì un bravo un bravo ragazzo si merita questo e altro senti prima di andare in chiusura parliamo di una polemica che è uscita sta divampando in queste ore ovvero riguarda la serie che è più vista da quando esiste Netflix e quindi stiamo parlando di una serie che ha superato gli ascolti di Gomorra gli ascolti di Romanzo Criminale che è la serie sugli 883 Claudio Cecchetto non si rivede in quella rappresentazione dichiarazioni da poco rilasciate chiaro credo al Corriere non vuol parlare di Max Pezzali due credo siano ancora in causa non vorrei sbagliarmi dice parliamo di cose belle come direbbe Vasco Rossi elogia Mauro Repetto che definisce il tipo Disney italiano e non accetta il fatto che nel passaggio in cui si parla di lui c'è diciamo una parte in cui lui critica la provincia invece lui si dice fiero della provincia e quella rappresentazione dice non mi appartiene ed è completamente errata e sballata brutta storia brutta storia perché come tante altre ecco vedi per esempio a me quando le persone dicono hai discusso con la Bruganelli io rispondere vorrei rispondere ma perché pensate che io sia l'unico a discutere cioè io discuto perché devo essere pagato molto semplicemente come ho detto pubblicamente senza vergogna per aver fatto quattro lavori senza un contratto in modo ingiusto e altre cose qua invece si parla veramente di 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 un'amicizia di 25 anni di un perdito 30 anni di un percorso insieme di una scoperta di un qualcosa di molto importante e quindi cioè non è che nel piccolo nel grande come nel mio lavoro come in tanti altri lavori come succede in una radio le poste in banca ovunque questi screzzi ci sono spalle larghe si affronta tutto e si supera e si supera con la serenità se hai la coscienza a posto se non hai la coscienza a posto invece poi cerchi altri appigli ma non da partiglia con questa chicca con questa chicca chiudiamo ma prima Gabriele non abbiamo ancora detto il nostro claim per me no grazie per me per me no grazie per me studio 100 lo volevo dire io lo volevo dire io non è vero non è vero per me no grazie per me studio 100 bellissimo ringraziamo i nostri ospiti Giorgia De Martino della quale ne sentiremo parlare vedremo domani sera il bianca bellinguera ma abbiamo visto prima qui ringraziamo Dejanira e ringraziamo chiunque riprenda le notizie che abbiamo dato a Giorgia Giorgia è stata molto brava grazie Gabri quindi brava brava e noi ci vediamo credo la prossima settimana non di domedì ma di martedì non vorrei sbagliarmi ma di martedì ecco credo vabbè comunque seguiteci sui nostri social perché video ovviamente vi aggiorneremo su tutto sulla prossima diretta poi ovviamente caricheremo questa puntata intera su YouTube per chi se la fosse persa ricordatevi di scaricare l'app sia su Apple che su Android ma anche su tutti i dispositivi TV e Amazon Fire Stick insomma ci troverete ovunque troverete la nostra app scaricabile su tutti i canali e nulla quindi vi auguro una buona serata Gabriele ti saluto e grazie ciao a tutti ciao a tutti e ci vediamo la prossima settimana grazie mille andiamo al prossimo pezzo Sara tacchi fra le dita grazie a tutti i canali grazie a tutti i canali